La Voce al Sindaco, rubrica settimanale della testata giornalistica di Radio Dimensione Musica. L'intervista del lunedì al Sindaco di Ispica. Quindicesimo appuntamento radiofonico settimanale con la Voce al Sindaco. La rubrica di approfondimento della testata giornalistica di Radio Dimensione Musica. Il primo cittadino esficese Nocenzo Leontini discute al microfono del nostro giornalista Piero Giunta sui fatti sociali e politici avvenuti durante la settimana appena trascorsa. E la Sindaco di Ispica Nocenzo Leontini questa settimana, oltre a fare il punto informativo sulla situazione settimanale del Covid-19, ha voluto ancora una volta sensibilizzare la città e soprattutto i giovani a rispettare le regole. Il primo cittadino esficese ha parlato dell'incontro che avrà stamattina con il nuovo segretario comunale e degli incontri con il Rotary Club e con la CNA, dell'importanza che le associazioni ispicesi hanno nella vita sociale e socio-economica della città. Ascoltiamo Innocenzo Leontini. Findaco, è da 15 settimane che la Voce al Findaco apre il radiogiornale del lunedì. Con la nostra solita chiacchierata radiofonica abbiamo raggiunto un piccolo traguardo informativo. Findaco, questa settimana che ci siamo lasciati alle spalle è stata una di quelle settimane che da primo cittadino l'hanno preoccupata di più, nel senso che ha sentito il diritto dovere, ha pubblicato anche un video sui social dove sensibilizza la città e soprattutto i giovani a rispettare le regole. Da questi microfoni cosa vuole dire alla città? Grazie Piero. Ieri a Dispica sono stati effettuati 521 tamponi, tutti negativi. C'è da dire però che negli ultimi giorni il dato relativo ai contagi a Dispica è cresciuto e ad oggi i contagi sono 13. Io ho già nei giorni scorsi raccomandato a tutti i concittadini saggezza, condotte virtuose, rispetto delle prescrizioni, l'uso sempre della mascherina dentro e fuori, all'interno e all'esterno e il rispetto del distanziamento. Farò di tutto nei prossimi giorni per intervenire personalmente facendo, diciamo così, delle verifiche per le vie di Ispica affinché non si creino situazioni di assembramento. Io chiedo ai cittadini di Ispica di stringersi tutti attorno al loro sindaco e soprattutto di collaborare tra loro affinché il dato non cresca ulteriormente. Per far questo bisogna essere responsabili, per far questo bisogna essere seri e rispettosi delle prescrizioni e delle regole igienico-sanitarie. Ecco perché ancora una volta io mi affido ai miei concittadini affinché nei prossimi giorni collaborino con me per abbassare e ridurre nuovamente il numero dei contagiati e riportarlo quasi a zero come era accaduto nelle settimane scorse. eravamo arrivati a due, adesso tredici è un numero che non è che mi preoccupi ma mi induce ad essere attento e a raccomandare quello che sto raccomandando. È sicuramente una crescita che non doveva avvenire e siccome questa terza ondata è più pericolosa di quelle precedenti, siccome siamo più vulnerabili e siccome il virus è più istruito di quello precedente noi dobbiamo fare in modo da porre un'argine e una barriera. Sindaco, oggi appena lei salirà le scale di Palazzo Bruno, incontrerà il nuovo segretario comunale. Oltre ai saluti convenevoli, cosa gli dirà della vita amministrativa del nostro comune? Un comune di ispica non facile da gestire. Al nuovo segretario comunale che lo sarà per il primo mese, dal primo marzo alla fine del mese di marzo io dirò che il comune di ispica è un comune in difficoltà finanziarie che ha dichiarato dissesto in difficoltà anche dal punto di vista dell'organizzazione burocratica e quindi chiederò di impegnarsi affinché sia strumento fondamentale e dia un contributo importante alla riorganizzazione del comune e quindi all'ottenimento di risultati di ripresa. È un comune che si vuole riprendere e speriamo che il segretario dia un contributo forte a questa volontà di ripresa che tutti noi amministratori gli comunicheremo e cercheremo di attuare. Debbo ringraziare il dottor Bella che comunque non ha mai fatto venire meno il suo impegno, la sua abnegazione, la sua disponibilità con una vocazione sempre attenta alla risoluzione dei problemi. Questo non significa che l'esperienza del dottor Bella debba ritenersi chiusa per la città. Noi siamo anche indotti da indicazioni provenienti dalla prefettura di Palermo a evitare lo scavalco precedente, scavalco che durava da due anni e per il quale dalla prefettura di Palermo è pervenuta una nota che sottolineava la necessità di procedere ad altre scelte, alla nomina di un titolare, ovviamente in modo compatibile con gli elenchi esistenti e con la disponibilità dei segretari che ci sono negli elenchi e che sono pochi comunque rispetto alla bisogna. Ecco perché noi abbiamo in questo momento approfittato della disponibilità del segretario Lomonaco ma senza dimenticare e quindi manifestare riconoscenza e gratitudine l'esperienza, il contributo e il sostegno del segretario Bella. Ne abbiamo parlato da questi microfoni in settimana. Lei, Sindaco, ha incontrato due associazioni diverse, nel senso che una opera nel settore del sociale e fa iniziative benevoli e l'altra rappresenta un pezzo della vita economica di Ispica. Viviamo un momento difficile. L'istituzione comune che lei rappresenta cosa vuole dire? Sì, ho incontrato due associazioni di carattere diverso, nel senso che con i rappresentanti del Rotary, con la Presidente Corradina Alfieri e gli altri componenti del direttivo, abbiamo ricordato la celebrazione del 116esimo anniversario della fondazione avvenuta a Chicago nel 1905. Il Rotary è un'associazione di volontariato sociale e culturale per la difesa del territorio e abbiamo insieme immaginato dei programmi che possano coinvolgere in Rotary l'amministrazione comunale in alcune iniziative di carattere sociale e culturale di protezione del territorio. Con la CNA abbiamo invece affrontato, perché la CNA ha un taglio di carattere più socio-economico, un intervento sulle attività artigianali ed economiche, abbiamo invece affrontato il problema del programma Garanzia Giovani che è un programma che prevede dei finanziamenti per la nuova occupazione e per la formazione di giovani sotto i 30 anni. Abbiamo anche affrontato poi nei giorni precedenti tematiche problematiche che riguardano il rilancio delle attività artigianali ispicesi per una ripresa della economia del nostro territorio tanto afflitta in questo periodo di Covid. Grazie Sindaco, a lunedì prossimo al sedicesimo appuntamento con la voce al Sindaco. Ringrazio Inocenzo Leontini, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.